Musica Un campionato vissuto praticamente sempre in zona promozione, vincendo nettamente senza lasciare nessun dubbio sull'attimità di questa sesta promozione della storia giallorossa in Serie A. Anche l'ultima battaglia, lo scontro diretto contro il Palermo dei grandi campioni, di Zauli, Asta, Maniero, il Palermo dei grandi investimenti, della grande metropoli, di una serie positiva che durava da 14 turni. Ma il campo ha detto, senza nessuna possibilità di equivoci, che i più forti sono stati gli altri, quelli in maglia giallorossa, anche senza il loro bomber Cervantone, anche senza Di Vicino, anche senza quell'Oscar di sfortuna che è Cimirotic, ma con dalla loro la spinta formidabile dei 36.000 spettatori del Via del Mare che hanno trasformato lo stadio in un catino di entusiasmo e soprattutto con dalla loro il progetto vincente di una programmazione seria che in otto anni e mezzo di legame con Leccia ha portato i dirigenti del gruppo Semeraro a festeggiare, oltre ai tanti trionfi del settore giovanile, due salvezze nella massima serie e il 100% di vittorie nei campionati non disputati in Serie A, una promozione della C alla B nel 96 e ben tre salti dalla B alla A, quelli del 97 e del 99 e adesso questo fantastico del 2003 conquistato con una dimostrazione di superiorità disarmante nei confronti del Palermo. La partita non ha avuto praticamente storia, si vede subito che il Leccia ha almeno una marcia in più rispetto agli avversari. Tre giallorossi funziona tutto alla perfezione, il Leccia toglie quasi il fiato agli avversari, li aggredisce, li pressa, praticamente gli impedisce di ragionare e dopo 12 minuti già un pezzo importante di Serie A finisce in tasca ai Salentini. L'intesa tra i tre davanti del Leccia è perfetta, il movimento di Vucinic, gli scatti di Tonetto e Camorani sono lame acuminate per i meccanismi difensivi del Palermo. Il pallone che Tonetto recapita a Camorani, uno specializzato, single storici e di quelli che proprio non si possono sbagliare e Camorani anche questa volta non delude il popolo giallorosso. 1-0 e adesso il Palermo deve segnare addirittura due reti per strappare a Lecce, quel posto in Serie A che sembra avere già il suo padrone. È una mazzata terribile per i siciliani che forse non si aspettavano di trovare un avversario così tonico, senza nessuna paura, assolutamente non disposto ad accontentarsi di quel pareggio che pure sarebbe bastato a tagliare il traguardo. In una parola, probabilmente non si aspettavano un avversario così forte. Il Lecce meriterebbe il raddoppio con la splendida conclusione di Bucinic, ma Siciniano glielo nega. Peccato, ma è una nuova conferma del valore assoluto di questo ragazzo pescato da Corvino e Montenegro e ormai pronto a misurarsi sul palcoscenico più luccicante del calcio italiano. Tutto il Lecce dimostra di meritare la Serie A, anche se dopo l'avvicendamento nel Palermo dell'infortunato pivoto con Ferri, al 32esimo c'è l'unico vero brivido della serata per i giallorossi. Il cross di Morrone che Zauli riesce soltanto a sfiorare. Un semplice incidente di percorso perché il Lecce gestisce senza soffrire la maggiore pressione che adesso i siciliani provano a produrre. Sonetti si gioca anche la carta di Napoli, un attaccante in campo al 39esimo, al posto di un difensore a Cardi, ma il finale di tempo è ancora tutto di marca giallorossa. Si va a riposo con l'impressione che per il Palermo sarà difficilissimo strappare questa promozione ai Salentini. Impressione che diventa una certezza dopo appena 90 secondi del secondo tempo, quando Tonetto per l'ennesima volta innesta il turbo e in questa occasione offre a Giacomazzi su un piatto d'argento il pallone del 2-0. Come Camorani nel primo tempo, anche ora Giacomazzi non manca l'appuntamento. 2-0 via del mare impazzito di gioia e Serie A ormai chiusa a doppia mandata in cassaforte. Adesso direte il Palermo dovrebbe farne addirittura tre e anche se Sonetti butta nella mischia pure Maniero al posto di la grotteria, proprio non si riesce a capire come possono fare i siciliani a compiere questa impresa e soprattutto come possa fare un Lecce così a suicidarsi. La partita e il campionato sembra aver già emesso il suo verdetto. I siciliani danno l'impressione ormai di non crederci più. Rossi concede la passerella finale anche a Boginov con i suoi 17 anni, un po' il simbolo di questo Lecce, unica squadra tra le retrocesse dell'anno scorso in grado di riconquistarsi subito il suo posto in Serie A. Il Palermo ha un sussulto con Di Napoli ma è ancora in Lecce ad andare vicino alla terza rete con uno spunto personale del capitano Gigi Piangerelli che una soddisfazione così l'avrebbe proprio meritata. La raccoglie anche per lui un paio di minuti più tardi Valeri Boginov. Anche questa volta Tonetto è fondamentale nell'indurre all'errore morrone. Per Boginov è il secondo gol con il Lecce dei Grandi, quello che trasforma la festa in un'apoteosi giallorossa. Il Lecce che ha saputo rialzarsi subito dalla mazzata della retrocessione con un lavoro di attentissima programmazione avviato in estate da Mario Moroni tra lo scetticismo di molti e l'appoggio di pochi che ricordavano quale preziosissima fortuna rappresentasse per Lecce ed il Lecce avere in un panorama calcistico meridionale sull'orlo del collasso una società così chiude nel modo più bello un anno fantastico e neanche la sconsiderata invasione a 40 secondi dalla fine ha rovinato la festa. L'anno prossimo per la decima volta nella sua storia il Lecce giocherà in Serie A. L'anno prossimo per la decima volta in Italia